Ecco è terminato il primo tempo delle esibizioni, oggi qua c'è il raggruppamento della scuola calcio organizzato dalla federazione e ci troviamo a Fara San Martino, i ragazzi stanno dissetando, la trascamaglia giallo-verde e la valle a Ventino, tutto il rettangolo di gioco in erba sintetica, ci sono postazioni di gioco divisi in settori, qua stanno ancora giocando eppure là in ponto stanno ancora giocando, ancora non finisce la prima fase, sulle tribune ci sono ovviamente i genitori dei ragazzi che gioiscono per le protesse dei loro argoletti, qua è il gruppo di mister Anna, qua invece il gruppo di mister Gabriele di Felice che è anche il mister degli allievi, nonché coordinatore tecnico della scuola calcio settore giovanile. stanno ancora giocando, stanno abbattendo il calcio all'angolo, fa poco che eliminerà anche questa divisione in porta, attacco, sono i relativi scambi giocati, giocano tutti, facciamoci vedere Simone, Angelo, facciamoci vedere, facciamoci vedere, facciamoci vedere, facciamoci vedere, ha segnato la virtù, ecco il nostro mister e coordinatore tecnico della scuola calcio settore giovanile Gabriele di Felice, facciamoli giocare, facciamoli giocare, qua in punto c'è un altro gruppo, c'è mister Anna, un altro gruppo di ragazzi che si esibiscono, attaccano, attaccano i ragazzi, attaccano. Grazie a tutti.